364 lavoratori in più, 266 donne, 98 uomini in un'età media di 31 anni sono stati letteralmente catapultati nei reparti durante il periodo del covid. Oggi dopo aver superato un tempo di 18 mesi a seguito di avviso pubblico sono a tutti gli effetti dipendenti a tempo indeterminato del Policlinico di Bari. Il direttore generale Giovanni Migliore ha voluto incontrare una delegazione di questi lavoratori stabilizzati, per lo più infermieri, ma anche medici, tecnici di laboratorio e altre figure altamente professionalizzate che vanno a rinsaldare le piante organiche dell'azienda ospedaliera. Loro stessi però ricordano quei giorni e anche per questo vivono con un'emozione grande, questo momento. Per me la paura soprattutto della vestizione e svestizione, quella è stata la cosa più traumatica all'inizio, che poi però si è rivelata essere quella che ci ha permesso di lavorare in sicurezza, di evitare il rischio che era quello che poi faceva paura a tutti e che ci ha permesso poi di fare il nostro lavoro al meglio, spero. Una serie di sacrifici che portano ad un risultato, sacrifici perché comunque noi per stare qua abbiamo studiato, abbiamo avuto una grande opportunità, la maggior parte di noi grazie al Covid, però siamo stati ripagati con questa stabilizzazione, sia una vittoria che un punto di partenza. Lo stesso Migliore, accompagnato dal direttore amministrativo Gianluca Capochiani, ha sottolineato come l'assunzione di questi lavoratori rappresenta non un ringraziamento per quanto fatto nel periodo di emergenza, ma il riconoscimento di una professionalità guadagnata sul campo nel corso di questi mesi. Per farlo è stato necessario un intervelto a livello nazionale. Noi dobbiamo senz'altro essere grati a questi ragazzi che ci hanno fatto superare una crisi che sembrava incredibile, che è arrivata in modo violento e che sembrava veramente insuperabile, ma dobbiamo anche riconoscere che in quel periodo, che è stato un periodo molto particolare, loro si sono formati in fretta. Quindi è il riconoscere la loro competenza, è una competenza maturata al servizio di tutti noi.